I responsabili della cooperativa sociale Etnos hanno lanciato un appello per chiedere che la pubblica amministrazione saldi un credito da un milione di euro che la stessa coop vanta per l'espletamento dell'attività di accoglienza e protezione di donne minori vittime di violenza. Una situazione di disagio per i 120 lavoratori, acuita dal fatto che da quasi tre mesi sul capo della stessa cooperativa pende la spada di Damocle di una cartella esattoriale da circa 125 mila euro e altre spese di gestione. Tra l'altro la cooperativa ha provveduto a sbloccare dei fondi per il pagamento delle tasse portando avanti la procedura per tale saldo ma la pubblica amministrazione non ha nemmeno prelevato la cifra dovuta.